Questa operazione è un tentativo della sinistra di cavalcare questa avanguardia filoimmigrazionista che però, ripeto, quando accusano il centro-destra, quegli italiani che non vogliono l'immigrazione controllata di essere razzisti, formano un'accusa principalmente borghese, tipica dell'elite dominanti, che tende a criminalizzare i ceti più in difficoltà, criminalizzando chi non vuole l'immigrazione controllata, dando dei subumani o delle bestie ai salviniani, ai leghisti, ai cittadini di centro-destra che sono contrari alle frontiere aperte, perché c'è uno studioso francese che ha scritto l'elogio delle frontiere a un marxista, un pamflet straordinario, le frontiere servono per proteggere ciò che funziona. La nostra Europa, voglio che rimanga un continente accogliente, un continente dove ci sia una comunità pronta ad accogliere il prossimo. Oggi in Italia, con quest'anno e mezzo, dove l'Italia è diventata un campo profughi praticamente, con la politica delle frontiere aperte, della marina militare che salva tutte le imbarcazioni al Mediterraneo e che va a salvare ormai la gente anche sulla battigia della Libia, capite che è stata un'operazione domenica, quella di Renzi, estremamente fallimentare, che ha sicuramente aiutato tutto il fronte anti-renziano. Gli anti-renziani in Italia dopo domenica dicono, se questo ci considera subumani, quindi sposta il piano dalla politica all'antropologia, credo che in qualche modo ci sia la volontà di riorganizzarsi contro questa visione filoimmigrazionista.